tutta l'informazione sul mondo della voce è su voci.fm da dieci anni partner voxil voci gola dalla natura un aiuto per la tua voce voxil.it amici di voci.fm buon pomeriggio da parte di marco picchio quando ci sono quando appaio io col mio faccione ci sono sempre degli ospiti che saluto allora saluto innanzitutto giuliano biasin della cooperativa esibirsi ciao giuliano benvenuto che accanto a lui è un altro personaggio importante di esibirsi che ci puoi presentare luigi bugio che fa parte del cda della cooperativa esibirsi come consigliere sta prendendo sempre più quota in questi ultimi anni come parte importante della cooperativa per i servizi forniti dalla cooperativa per la rappresentanza saremo insieme ne parleremo dopo saremo insieme la prossima settimana a sanremo allora innanzitutto luigi ti saluto quindi è piacere riconoscerti tantissimo piacere anche per me un'occasione molto bella e molto particolare proprio a ridosso della kermess canora più importante in italia insomma è un grande piacere condividere con voi quello che andremo ad affrontare insomma questo bellissimo percorso allora prima di parlare di questo percorso che poi ci vede tutti insieme poi poi spieghiamo bene come funziona parliamo un attimo velocemente della cooperativa esibirsi perché abbiamo ha fatto già delle ha avuto già degli incontri quindi chi segue voci.fm sa cosa è esibirsi però tante volte ci fosse qualcuno che non vi conosce magari una breve descrizione e anche la vostra mission qual è no sì allora la cooperativa esibirsi è una cooperativa di artisti è la cooperativa di artisti più rappresentativa in italia in questo momento perché siamo stiamo raggiungendo il traguardo dei 6400 artisti soci in tutta italia e con una crescita veramente esponenziale in particolar modo nell'anno che abbiamo appena passato con una crescita di 1600 soci attivi in più e stiamo continuando a fare questa cavalcata incredibile e accolgo l'occasione per ringraziare tutti gli artisti e soci che hanno creduto e credono nell'attività che svolge la cooperativa e i servizi che offre la cooperativa. La mission principale della cooperativa esibirsi è quella di fornire una struttura ai lavoratori dello spettacolo per poter lavorare e proporsi in maniera professionale e lavorare in piena regola a livello contrattuale contributivo fiscale ed assicurativo quindi senza dover aprire una propria partita IVA lavorano con una propria autonomia come dei freelancer diciamo ma per conto della cooperativa quindi con la struttura amministrativa della cooperativa. Questa è la mission principale poi ci ha visto protagonisti insieme con voci FM anche per quanto riguarda la divulgazione dell'importanza e del valore della parola lavoratore dello spettacolo con il manuale dell'artista che nella terza versione ha visto anche la versione audiolibro fatta appunto grazie alla parola. Sì, esperienza interessantissima devo dire. Molte altre iniziative sempre di formazione in formazione fatte in maniera gratuita verso l'esterno verso gli altri artisti per portare avanti questa questa mission. Ok veniamo a Sanremo allora dunque Sanremo faccio io un breve cappellino dunque noi saremo noi di voci.f ma Sanremo abbiamo siamo siamo allestendo insieme poi anche con voi di esibirsi con Radio Flash e con Voxil Vocegola il nostro partner praticamente una postazione su cui si sta lavorando ma ci siamo insomma in Piazza Colombo quindi ci siamo appropriati della storica edicola di Piazza Colombo dove non troverete giornali ma troverete noi noi di voci.fm e anche voi di esibirsi Radio Flash e così via. Mi sembra un buon terreno Sanremo per diciamo andare incontro alla vostra mission cioè lì di gente che fa questo lavoro sia a livello di radio di cantanti ce ne sono quanti ne vogliamo quindi sarà un modo di incontrare sicuramente tanti tante persone per voi. Sì direi che approfittiamo appunto di questa occasione innanzitutto per invitare già da adesso a venire a visitare questo meraviglioso corner che noi abbiamo ridefinito anche Info Point perché poi sì è un punto di incontro dove appunto in qualche modo si va a stendere quello che è il nostro punto di vista sul mondo della musica e in particolare appunto nella settimana più importante della musica in Italia ma anche dare appunto delle informazioni oltre che i servizi che possiamo dare in modo diciamo costante continuativo qui dalle nostre postazioni di esibirsi possiamo farlo in maniera diciamo mobile perché saremo lì appunto nella famosissima edicola che condivideremo insieme a voi ma saremo anche diciamo in versione si può spoilerare Giuliano un pochino più ambulante perché come ben saprai Marco quest'anno la cornice di Piazza Colombo si è impreziosita finalmente dopo due anni di grosse difficoltà dovute al momento pandemico di un palco mega e di strutture che stanno cannibalizzando nel senso positivo tutta la metratura di Piazza Colombo e quindi noi saremo agili nel muoverci andare a incrociare l'interesse di chi ha bisogno di informazioni sul mondo dei lavoratori dello spettacolo ma anche cercare assieme a voi di carpire le opinioni pensieri le voci come voce fm da sempre fa di chi fa parte di questo meraviglioso mondo insomma nella settimana che ripeto oltre che la più importante è anche quella che determina poi tutto il mondo tutto il carrozzone musica. Sì anche perché poi anche per noi che facciamo la radio insomma no vabbè io faccio questo tipo di attività da lunedì ma da martedì cambia poi un po' tutto no anche dal punto di vista della programmazione musicale così via però come dicevi tu in Piazza Colombo quest'anno avranno un sacco di eventi ci saranno un sacco di esibizioni no quindi anche tanta gente che appunto si muoverà là intorno e quindi sarà veramente un modo di incontrare tante persone per voi e anche per noi eh chiaramente e per descrivere i vostri i vostri servizi no mi sembra un momento ottimo direi sì raccontare i nostri servizi e giustamente anche dare e divulgare queste informazioni importanti dopodiché eh coinvolgeremo e saranno presenti al nostro corner anche eh altre persone eh realtà con le quali collaboriamo come il coordinamento stage audio cop ehm il mail di faenza eh quindi saremmo veramente tante realtà con le quali ci incrociamo adesso a ste siedas eh scusa ma vabbè vi vengono in mente piano piano è normale insomma anche perché stanno aumentando quotidianamente eh tranquillo tranquillo contro con tutte queste realtà ed sarà un modo anche appunto di metterci insieme per divulgare le informazioni utili per gli artisti quindi oltre alla bellezza del festival a livello musica prettamente musicale artistico ci sarà anche questa possibilità di cogliere da cogliere durante il festival per informarsi formarsi e crescere allora eh io da parte mia per quanto riguarda diciamo il discorso radiofonico eh sì eh sto eh conducendo il programma sento le voci su voci.fmradio eh che abbiamo creato nella sua diciamo eh release eh speciale Sanremo proprio solamente per questo periodo quindi eh seguiremo adesso stiamo dando semplicemente un po' di informazioni e conoscendo un po' gli artisti però dalla settimana prossima avremo modo di entrare nel vivo anche noi arifonicamente proprio delle delle della manifestazione quindi ci sarà modo anche di incontrarci in qualche modo da quello che so saremo in diffusione quindi eh diciamo sarà un momento di incontro per tutti quindi lavorerete con Matteo Mattiacci eh con tutti tutti insieme quindi sarà io vi auguro già da adesso di di divertirvi chiaramente perché tanto poi Sanremo è sempre un momento di grande divertimento alla fine no perché è è stressante però divertente e di ehm diciamo creare dei contatti nuovi che è la cosa che è la cosa più importante. Poi accogliamo con l'occasione per fare un in bocca dare un in bocca al lupo a con l'azio che sono un gruppo che ha superato le selezioni delle della parte giovani di Sanremo sono giovani e adesso concorre a quei BIG che sono soci della cooperativa Mesevese. Dai beh è bellissimo allora allora ti faremo anche perché sai guardi dico la verità poi chiudiamo il discorso e io sono una ma cioè seguo chiaramente necessariamente il festival di Sanremo perché lo devo fare e lo faccio con piacere anche perché in questi ultimi anni eh grazie ad Amadeus devo dire la verità il festival ha riacquistato una una verbo una carica che non aveva più prima in tutta onestà eh basta guardare come come sta funzionando il il Fantasarremo insomma no che sta esplodendo no ed è un gioco ehm però trovo sempre nei giovani nella linfa giovane la parte più interessante del festival in tutta onestà con tutto rispetto per i cugini di campagna ecco ci mancherebbe altro. Però devo dire sui cugini di campagna è bella sta combo che il brano gliel'abbia fatto la rappresentante di lista. È vero. Un attimino una cosa particolare. È vero. Sono curiosissimo di ascoltarlo. È vero. Approfitto hai accennato al gioco. Approfitto per dirti di iscriverti alla Lega esibirsi sul Fantasarremo perché siamo anche là. Perché è meglio ogni tanto metterla in gioco. Avete creato una Lega tutta vostra? Perfetto benissimo. Ragazzi io vi ringrazio per essere stati qui su Voci.fm. Buon lavoro a questo punto e grazie per l'intervento oggi nell'intervista. Grazie a te. Grazie mille a te. Buon lavoro. Ciao a tutti. Tutta l'informazione sul mondo della voce è su Voci.fm. Da dieci anni. Partner Voxil Vocigola. Dalla natura. Un aiuto per la tua voce. Voxil.it